Terre degli Uffizi porta i ritratti di famiglia dei medici in Mugello. Fino al 5 di novembre, infatti, nelle sale nobili del Palazzo dei Vicari di Scarperia, quattro opere a delle prestigiosa galleria evocano la lunga e diffusa presenza di questa straordinaria famiglia nelle campagne e nei paesi non lontano da Firenze. Il Mugello è proprio il terreno dal quale i medici nascono e quindi è una grande occasione per noi di aprire la mostra dedicata alla linea del Cinquecento dei Medici qui a Scarperia con dei ritratti, tra cui alcuni anche abbastanza famosi, nel terreno che era così caro ai medici dove tornarono attraverso i secoli, ancora nel Seicento, inizio Settecento, di avere una presenza dei volti dei medici che hanno reso famosa questa famiglia in tutto il mondo. Saranno esposti quattro ritratti di famiglia dei duchi e delle loro consorti, eseguiti da artisti di prima fila nel panorama fiorentino tra gli anni Trenta e gli anni Ottanta del Cinquecento. Fra questi, Ridolfo del Ghirlandaio ha ritratto Cosimo, figlio di Giovanni dalle Bande Nere e di Maria Salviati, poco più che decenne, ma già orgogliosamente consapevole del suo rango, come indicano il ricco abbigliamento e la presenza della stemma in alto a destra, recante all'iscrizione Cosmo Medde. Ed ancora il ritratto della duchessa dell'onore a moglie di Cosimo e figlia di Don Pedro de Toledo, vicere di Napoli, che fu eseguito da Lorenzo Sciorina, un allievo del bronzino, che ripropone con alcune varianti la cerebre tavola del suo maestro, anch'essa oggi conservata agli uffizi. La principessa indossa un magnifico abito di broccato riccio insieme alle perle di cui era appassionata. Insomma, uno straordinario evento che si consumerà a poche distanze da Firenze, nel prestigioso Mugello, ricco di tradizioni e di storia.